Vigilia di derby, conferenza stampa di Stefano Pioli. Una conferenza stampa di un Pioli molto più sereno, molto più convinto rispetto magari alle ultime due incontri con i giornalisti, sempre incontri da remoto, ben inteso. Un Pioli che è fiducioso, è fiducioso su una buona prestazione del Milan. Milan che dovrebbe schierare una formazione con un solo dubbio, anche se ci ha detto personalmente alla mia domanda metteremo in campo i giocatori che stanno bene, che sono sicuro mi possano dare delle risposte. Però nonostante questo non credo che per esempio un Cialanoglu non ancora al massimo della condizione possa in questo momento essere escluso. Quindi dovrebbe essere proprio un Milan che schiererà Donnarumma, Calabria. Per esempio Di Tomori ha detto che lo vede non con le caratteristiche fisiche per contrastare Lukaku e quindi come vi avevo già anticipato saranno Chiare e Romagnoli i due difensori centrali con Teo Hernandez. Tonali vista l'assenza di Benasser giocherà centrale con Chessy, Sele Meker completerà la formazione con Cialanoglu, Leao Rebic, Rebic secondo me più che Leao ma vedremo e Ibrahimovic. Veniamo anche a delle informazioni circa problemi fisici. Benasser sembra che il suo problema non sia grave, non sia un problema così. Probabilmente sono quelle cicatrici, quelle aderenze che gli hanno impedito di continuare la partita di Belgrado. Stesso problema, un altro problema muscolare leggerissimo però per Mandzukic che potrebbe essere già però recuperato per la partita di giovedì prossimo contro la Stella Rossa. Ma la testa, la testa, la mente, la concentrazione va al match contro l'Inter. Io dico che se il Milan ripetesse la partita i primi 60 minuti dell'ultimo derby se la giocherebbe con grande tranquillità anche se ovviamente l'Inter arriva un po' meglio perché ha effettuato il sorpasso nell'ultima giornata di campionato. Il Milan invece reduce da una sconfitta, da un pareggio che Piogli ha definito non bello proprio perché gli ha ricordato un po' la partita contro la Fiorentina quando il Milan l'anno scorso giocava 11, ha giocato 11 contro 10, ma non ha affondato e non ha morso per chiudere la partita. Quindi un Milan che deve migliorare lì. Io firmerei di essere in vantaggio numerico e con un vantaggio anche a livello di risultato e poi me la voglio giocare nella finale della partita contro l'Inter. Quindi il Milan due volte con la Fiorentina e con la Stella Rossa non ha saputo carpire la partita. Ci auguriamo che indipendentemente dal 10 contro 11, 11 contro 10, mettetela come volete, riesca a essere cinico e concreto quando serve essere cinici e concreti. Un'altra bella frase, adesso sentiamo Pioli e c'è un'altra frase che poi mi ha colpito, ma incominciamo a sentire la conferenza stampa di Stefano Pioli. Tatticamente l'abbiamo preparata chiaramente e vedremo domani per le situazioni che abbiamo preparato. Credo che però le squadre abbiano una propria fisionomia bella chiara sia noi che loro. Quello che possiamo dire dei debbi precedenti che sono state sempre partite equilibrate sia quando abbiamo vinto noi sia quando hanno vinto gli altri. Partite equilibrate, sempre con parecchie occasioni da gol, con tante situazioni offensive e credo che domani la squadra che avrà ancora una maggiore compattezza in fase difensiva e che riuscirà a essere ancora più qualitativa, ancora più precisa in tante situazioni potrà avere più possibilità. Il nostro obiettivo domani è quello di giocare una partita di alto livello. Io sono assolutamente convinto che Sandro ha un potenziale enorme, ma Sandro rimane comunque un giocatore giovane, molto giovane, al primo anno a certi livelli e che quindi stia crescendo bene e che sarà un giocatore molto forte, ma sta già facendo bene, sta già dimostrando le proprie capacità e però bisogna, anche se sei giovane, bisogna, se giochi in un club importante come il Milan, bisogna reggere queste aspettative, queste pressioni, ma è stato molto sereno, molto determinato come ho visto tutti i suoi compagni. Sicuramente nelle due ultime partite non abbiamo alzato il nostro livello di gioco, a livello sia qualitativo, sia tecnico, sia di gestione della palla e anche la fase difensiva non ci ha visto così solidi, così compatti come siamo abituati, quindi secondo me non è questione di un singolo giocatore o di un singolo reparto. È chiaro che domani dobbiamo essere una squadra molto attenta, molto determinata, molto corta, cercando di avere molti reparti vicini, le distanze giuste, difendere bene, poi quando poi hai delle belle posizioni in fase difensive, più delle volte poi riesci anche ad attaccare molto bene, questo è il nostro obiettivo. Tra Ibra e Lukaku mi tengo tutta la vita a Ibra, assolutamente, e poi grande rispetto per Lukaku che sta dimostrando di essere un ottimo giocatore. Quello che è successo sarebbe stato meglio non fosse successo, ma quella di domani è un'altra partita e credo che ci saranno in campo sicuramente dei duelli, degli scontri, è una partita molto importante, molto sentita, ma ci sarà sicuramente anche grande rispetto e grande sportività. La partita di domani è la partita più importante perché è quella di domani, perché siamo stati i primi in classifica per 20 giornate, adesso non lo siamo più, abbiamo la possibilità di ritornarci, quindi è chiaro che è una partita molto importante. Non sarà sicuramente ancora una partita decisiva per le sorti del campionato perché finita la partita di domani mancheranno ancora 15 partite, quindi 45 punti a disposizione, ma che sia una partita molto importante, sì, l'abbiamo preparata per l'importanza che merita questa gara. L'Inter può fare entrambe le situazioni perché è una squadra che ogni tanto aggredisce anche alto, ogni tanto invece ti aspetta e noi dobbiamo essere sicuramente più lucidi, sicuramente più precisi, sicuramente muoversi di più, perché comunque gli avversari con qualsiasi scelta facciano qualche spazio che dovevano concedere e noi dobbiamo essere molto più bravi a scegliere le giocate giuste e scegliere soprattutto anche le posizioni migliori in fase di possesso palla. Intanto ci tengo a sottolineare che le due ultime partite non sicuramente le nostre migliori gare, non ci hanno tolto sicuramente né convinzione, né forza, né certezza che abbiamo costruito attraverso un lungo percorso. Le nostre idee, la nostra coesione, la nostra volontà, il nostro modo di stare in campo ci ha dato dei grandi vantaggi, quindi sappiamo quello che, anzi, queste due partite dove non siamo riusciti a vincere ci hanno fatto capire ancora di più cosa serve per restare a certi livelli, come bisogna giocare, come bisogna approcciare le gare, come bisogna essere attenti e determinati in tutte le situazioni. Quindi sicuramente saremo forti e più forti delle ultime gare domani. Per quanto riguarda il nostro modo di giocare, secondo me se cominci una partita, se approcci una partita col pensiero che un pareggio ti può star bene e sei più vicino alla sconfitta che alla vittoria. Non è il nostro modo di pensare, non è la nostra mentalità, non è il nostro modo di giocare. Quindi giocheremo per vincere sapendo che non potremo sempre avere il pallone noi, sapendo che ci sarà da lavorare tanto di squadra, ma che abbiamo anche le qualità e le possibilità per mettere in difficoltà il nostro avversario. Io credo che domani debba essere una partita del collettivo, della squadra, del Milan, che deve giocare di squadra ed è sempre il collettivo che poi mette chiaramente nella possibilità e in evidenza le qualità del singolo. Quindi se noi giochiamo da squadra, poi dopo abbiamo i giocatori e Zata è uno di questi, ma non solamente lui, i giocatori di qualità che ci possono permettere poi di trovare anche la giocata vincente. Quindi noi dobbiamo giocare bene, dobbiamo giocare bene perché lo sappiamo fare, perché abbiamo la qualità tecnica, perché dobbiamo avere intensità, dobbiamo avere aggressività, dobbiamo avere le distanze giuste. Quindi ci sono tante situazioni dove la squadra deve cercare di far bene per poi, ripeto, mettere in condizione i nostri giocatori singoli qualitativamente forti di poter incidere nella gara. Per quanto riguarda la nostra testa è solamente sul derby, solamente quella, quella di Zata, quella dei miei giocatori, la mia, solamente sul derby e poi parleremo di altre cose più avanti. Tomori sta facendo molto bene, è un giocatore con caratteristiche diverse dagli altri suoi compagni di reparto. Credo che però, se parliamo un po' più di caratteristiche tecniche e fisiche, Tomori sia molto più adatto a, tra virgolette, a giocarsi la partita contro attaccanti come Lautaro, come Sanchez, se parliamo della partita di domani, piuttosto che di Lukaku, perché Tomori è sicuramente più veloce, più aggressivo, ma non ha tutta questa fisicità, magari per contrastare attaccanti così potenti, però sicuramente un'arma che abbiamo a disposizione e sono molto contento delle sue prestazioni, del suo atteggiamento, ragazzo molto intelligente, molto disponibile, che sta cercando di prendere il più possibile per far si trovare pronte e lo sta facendo bene. Manzic, purtroppo, ha avuto una lievissima lesione, mi auguro chiaramente già oggi lavorava, quindi mi auguro che non sia un'assenza lunga, perché stava entrando in condizione, stava bene, quindi ne abbiamo bisogno, quindi spero che sia una cosa veramente di poco tempo. Benassè per fortuna non ha avuto una ricaduta, non sa che ha fatto male, solo che Musco fa fatica a ritrovare quella elasticità che gli serve, anche lui spero di averlo tra breve. Ma sicuramente nella frontale a questa gara abbiamo bisogno di entusiasmo e di coraggio, questo sicuramente sì, perché non siamo usciti soddisfatti delle due nostre ultime prestazioni, anche se il risultato in Europa League è comunque un risultato positivo e quindi sicuramente essere determinati, essere vogliosi di provare a vincere la partita è sicuramente una cosa che metteremo sul campo e che proveremo a farlo dall'inizio alla fine. Ripeto che noi e l'Inter abbiamo delle caratteristiche completamente diverse e noi puntiamo a esaltare le nostre, a esaltare le nostre qualità di squadra, un gioco probabilmente più verticale, un gioco più veloce per cercare di mettere in difficoltà i nostri avversari. L'obiettivo del Miele è continuare il percorso che abbiamo cominciato e del quale siamo tutti molto soddisfatti, noi abbiamo la nostra visione, abbiamo il nostro modo di lavorare, abbiamo la nostra mentalità, siamo contenti di essere la squadra più giovane del campionato, siamo contenti per il momento di essere la vera, credo, la vera sorpresa del campionato e il nostro obiettivo è dare il massimo e ricominciare a farlo da domani, questo è il nostro obiettivo, poi alla fine tireremo le somme, sappiamo da dove siamo partiti, molto lontani, sappiamo che l'anno scorso abbiamo finito il campionato al sesto posto a 17-16 punti di distacco dalle prime del campionato, sappiamo che abbiamo 17 punti in più rispetto all'anno scorso, ma mancano ancora tante partite, quindi nessun obiettivo a lungo termine, ma meglio fare obiettivi a breve termine, quindi la partita di domani e pensare di portare a casa il massimo possibile da questa gara. A fine partita ero sicuramente deluso perché la vittoria nostra ci stava per come avevamo giocato, per le occasioni che avevamo creato e anche per le difficoltà che avevamo superato durante la partita, devo dire che ho rivisto il finale di gara e in effetti non abbiamo rischiato più niente, però non abbiamo avuto quella voglia di continuare a cercare il terzo gol, questo è il grosso errore che non dobbiamo ripetere. Ho fatto riferimento alla squadra allo stesso episodio che era successo un anno fa a Firenze quando eravamo in vantaggio di 1-0 e poi dopo in superità numerica non siamo riusciti a gestire bene il pallone e a cercare il secondo gol. Visto che è passato un anno da quella situazione, più o meno un anno e visto tutto il percorso che abbiamo fatto, sono situazioni che dobbiamo adesso sviluppare meglio perché siamo una squadra di un altro livello, con un'altra presenza sul campo, anche con un altro spessore e quindi è chiaro che bisogna far meglio e è chiaro che domani gli avversari sargono ancora di livello e quindi la nostra prestazione deve essere massimale in tutto quello che andiamo a fare con molta attenzione, con molta determinazione e con molta qualità perché servirà tanta qualità per cercare di vincere la partita. La nostra volontà è quella di cercare di comandare il gioco, questo fa parte del nostro modo di giocare, scenderemo in campo con questa idea. Poi ripeto, ci troviamo di fronte agli avversari che sono stati costruiti per vincere lo scudetto, che sono stati costruiti per essere protagonisti anche nell'Europa e quindi chiaro che dopo ci saranno anche delle situazioni dove dovremmo difendere e dovremmo farlo da squadra. Poi dopo le individualità ci sono, ma abbiamo le nostre e quindi ci giocheremo fino in fondo alle nostre carte. Sì, buongiorno Stefano, nella vicinia del derby parliamo un po' di filosofia greca, perché l'altro giorno mi ha scritto... Non ero fortissimo in filosofia, non ero fortissimo a scuola in filosofia, però dai ci proviamo. Ah, qui adesso arriviamo perché parla del suo lavoro di questo momento. Allora dice è praticamente colto da aporia. Io mi sono spaventato, sono andato a vedere. Ed è una strada quasi impraticabile, cioè leggo qua, si trova di fronte a due soluzioni per quante opposte che sembrano entrambe validi. Dove voglio arrivare? Voglio arrivare. In questo momento lei è di fronte al bivio di mettere giocatori non ancora al massimo della forma, Benasser, Cialanoglu, che se però lei non mette non possono mai crescere. Come si esce da questa aporia, da questa strada difficile? Qual è la scelta di un allenatore? Esalo un po' dal derby, ma è un discorso di derby e di post-derby. Sì, però domani c'è il derby. La domanda è pertinente per il nostro momento e per la situazione di qualche nostro giocatore che ha avuto degli infortuni non tanto tempo fa, che quindi hanno bisogno di giocare per trovare il ritmo, ma non sarà così per la partita di domani. Nel senso che domani chiederò ai giocatori che stanno bene, che sono pronti. Molti di loro non hanno giocato giovedì sera, chi ha giocato giovedì sera ha recuperato, quindi domani sicuramente la squadra è competitiva, è competitiva per cercare di fare il massimo, per cercare di ottenere il meglio da questa partita. Sono così concentrato su quello che stiamo facendo, che poi io ho sempre poco a memoria su queste situazioni, ma sono dentro con così tanta passione, emozione, desiderio di fare le cose fatte bene. So che noi lo stiamo preparando bene, so che c'è la concentrazione giusta, la determinazione giusta, la serenità giusta. I tifosi stamattina sono stati fantastici per darci la carica, quindi credo che noi stiamo facendo tutto il possibile per prepararlo bene. Poi sappiamo che la preparazione, se riteniamo che sia stata la migliore possibile, poi dobbiamo riportarla sul campo e trasformarla in un'ottima prestazione, perché ne abbiamo le capacità, ma solamente domani sapremo se veramente la nostra preparazione sarà stata la migliore. Sono assolutamente convinto di sì, abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare per essere pronti per questa partita. Mi è piaciuto molto, mi è piaciuto molto quando ha detto, quando ha detto io Ibrahimovic non lo cambio con nessuno. Grande rispetto, grande ammirazione per un campione totale come Lukaku, ma molto bello sentire proprio dall'allenatore del Milan che Ibra è la guida, Ibra è Supremacy, Ibra è il giocatore che domani deve aiutare il Milan a uscire da un momento che può capitare in un campionato, che può, che il Milan, che qualsiasi squadra può attraversare, ma sono quei momenti che una volta superati rendono ancora più convinti, determinati, forti, ogni gruppo, ogni squadra. Dunque siamo alla vigilia del derby, allenamento oggi, se ci fossero novità particolari altro video in serata, altrimenti domani il video del mattino. Ma voglio ancora rimanere a oggi perché guardate le immagini, guardate le immagini dei tifosi che si sono radunati fuori Milanello e questo è piaciuto tanto, come abbiamo sentito al nostro allenatore. Vi lascio l'audio. Questi ecco, questi i tifosi del Milan che domani alle ore 12 si troveranno i tifosi del Milan in curva sud, purtroppo non dentro, davanti al cancello 14 per poi aspettare la squadra, applaudirla, come anche nella partita di andata, applaudire per stare vicini ai giocatori e forse uno dei segreti della vittoria della partita di andata è stato proprio quell'affetto del pubblico, un po' a sorpresa, ma tanto tanto apprezzato. Se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like e iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegati.